Continua l'ascesa della Bule Bellinzago che cala il poker accostato. Per i Tigrotti 13 punti nelle ultime 5 giornate, zona playoff raggiunta e conferma delle ambizioni di un campionato di vertice. Tutto facile per la squadra di Morinaro che passa subito in vantaggio. La firma è di Bagdadi che di testa sul cross di Pisanello non sbaglia. Prima del riposo doppia occasione per D'Ambrosio assistito dallo scatenato Orlando. Nel primo caso tiro fuori di poco, nel secondo invece a respinta di pugni da parte di Bellesolo. L'unica chance per il costato in tutti i 90 minuti di gioco arriva al 32esimo, ma Varvelli non riesce a finalizzare calciando a lato. Nel secondo tempo il Bule mette a sicuro il risultato dopo 10 minuti. Punizione di Mangolini, Ballarini di testa non lascia scampo a Bellesolo per lo 0-2. Al quarto d'ora Bagdadi firma la sua doppietta con un tappino vincente dopo la corta respinta del portiere di casa. Al trentatresimo Canino crossa dalla sinistra per Maddalena che nella da piccola di testa appoggia in rete il gol del definitivo 4-0 che manda in orbita il Bule Bellinzago. Grazie.